Dialoghi sulle aree interne, come progettare il futuro. Era questo il tema dell'importante incontro che si è tenuto presso l'Auditorium Gaudium et Spes di Raviscalina. Sono intervenuti associazioni, comuni con numerosi sindaci del Matese e le università di Caserta e Salerno. Al termine dell'evento abbiamo avvicinato alcuni degli addetti ai lavori e sentite che cosa ci hanno detto. Allora dottoressa si parla tanto delle aree interne, molti convegni, risultati? I risultati in parte si sono già verificati perché la strategia nazionale per le aree interne è stato un grande laboratorio di costruzione di strategie per migliorare la vivibilità delle aree interne. Ovviamente si è concentrato su poche aree pilota in Italia. Il nostro studio ha messo in luce, come già nella regione Campania, ci sono tante altre aree che hanno non soltanto le criticità che la SNAI ci ha portato a comprendere e a riflettere su tali criticità, ma hanno anche il potenziale, le potenzialità, le risorse interne per far partire dei processi di sviluppo. Quindi si tratta di continuare su una strada che in qualche modo è stata già intrapresa. Anche nel PNRR si rilancia l'idea di una strategia per le aree interne e ci sono moltissime misure legate appunto allo sviluppo dei piccoli borghi, dei piccoli comuni. Allora ci può parlare del progetto di oggi sulle aree interne? Che parlerete qui? Oggi viene presentato un progetto che ha avuto un'appropriazione ministeriale, ma sostanzialmente è l'occasione anche per portare sul tavolo e per mettere insieme tutte le competenze che ci sono sia a livello universitario, ma sicuramente in tutti questi luoghi bellissimi, per preparare un progetto ancora più ampio di sviluppo, prendendo tutto il meglio che c'è anche dai nostri, da questo piano di ripresa che è stato presentato dal governo. Ecco io questo le volevo chiedere, il recovery plan quanto potrà incidere? Guardi, secondo me inciderà molto perché ci sono tantissime misure che riguardano direttamente tutta questa fetta del territorio, cioè delle aree interne, dei paesi al di sotto di 5 mila abitanti, però ci sono anche altre misure che sono un po' trasversali, un po' nascoste, che sta a noi attraverso le tecnologie, attraverso la discussione, attraverso le idee da poter utilizzare e ripescare. Allora Presidente, qual è il ruolo delle associazioni in progetti importanti come quello di oggi e sulle aree interne? Il ruolo delle associazioni diventa sempre più determinante, anche in occasioni come queste, perché sono i portavoci di quelle che sono le esigenze dei territori, e quindi ognuno per la propria parte deve portare il proprio contributo, svolgere il proprio ruolo e far sì che queste iniziative, come questa di stamattina presa su iniziativa dell'Università Van Vitelli, che vuole praticamente proprio rilanciare il discorso delle aree interne, deve essere a tutti i costi supportata da tutte le associazioni. La nostra associazione Amadesi e il Movimento è stata investita di questo invito e io sono qui a rappresentare quelle che sono le cose che all'interno dell'associazione quotidianamente ragioniamo. Il rilancio delle aree interne si parla tantissimo, però ci sono anche dei rischi. Ad esempio quale? Lei si occupa prevalentemente di questo? Sì, è così. Il rilancio passa attraverso la mitigazione di diversi rischi in ambito locale. Stiamo specificamente parlando del rischio idraulico, idrogeologico e sismico fondamentalmente. Sappiamo benissimo che aree di questo tipo sono colpite da eventi talvolta catastrofici, come purtroppo ricordiamo, e puntare sulla mitigazione può costituire una svolta, un rilancio per la valorizzazione di queste aree. Presidente, il peso che potrebbe avere il recovery plan in questi rilanci delle aree interni, questi importanti progetti che sono in atto? Un ruolo fondamentale, ma soprattutto può essere per una volta la soluzione, in modo da mettere insieme realmente non solo di nome ma anche di fatto tutti quanti i comuni del territorio per disegnare una strategia di sviluppo comune. Soltanto così non si perderà questa occasione storica, che è come un treno che passa una sola volta. Da Araviscalina è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it